In questo numero di Qui Europa Magazine, caso Salis, Bruxelles apre alla procedura di infrazione per l'Ungheria, nuovi aiuti all'Ucraina per la ricostruzione, in Europa 3,7 milioni di tirocinanti. La Commissione europea è pronta a intervenire sulla vicenda di Ilaria Salis e le sue condizioni di detenzione in Ungheria, è quanto emerso da un dibattito che si è svolto al Parlamento europeo. La Commissaria europea per i servizi finanziari, Merit McGuinness, ha riferito che Bruxelles non esiterà ad avviare una procedura di infrazione in caso di accertata violazione del diritto dell'Unione. Tra gli eurodeputati italiani, posizioni diverse sul caso dell'italiana detenuta in Ungheria. Abbiamo voluto portare questo caso di fronte all'Europa perché è inaccettabile che un paese europeo come l'Ungheria tratti in questo modo i detenuti, una ragazza italiana in attesa di giudizio che viene portata in aula, incatenata a mani e piedi, peggio di un animale. Quindi noi chiediamo come Partito Democratico e ribadiamo la richiesta al Governo di attivarsi affinché Ilaria Salis, in virtù di una norma europea, un accordo tra l'altro tra Italia e Ungheria del 2009, venga trasferita in Italia a scontare gli arresti domiciliari come questa norma prevede. Sono 2.600 gli italiani incarcerati all'estero, anche in paesi del terzo mondo, in condizioni di certo non rispettose dei diritti umani, ben oltre le condizioni in cui è costretta Ilaria Salis. Certo, da imputati non si sta bene in nessuna parte d'Europa e del mondo, però credo che intorno alla vicenda Salis ci sia tanta ipocrisia da parte della sinistra. Se colpevole, Ilaria Salis dovrà scontare la sua pena, come avviene in ogni stato di diritto, come dovrebbe avvenire in ogni paese che faccia rispettare la legge. Non si può tollerare il fatto che una persona abbia condizioni detentive come quella di Ilaria Salis. Questa è una violazione chiara dei diritti umani. C'è un problema anche di stato di diritto, perché dobbiamo ricordare che non io, ma la Commissione nel report sullo Stato di diritto ha detto che l'Ungheria non rispetta per quello che riguarda la giustizia l'indipendenza dei giudici e quindi rischiamo per lei un processo politico. La Commissione europea e l'International Financial Corporation della Banca Mondiale hanno firmato un accordo per sostenere gli investimenti legati alla ricostruzione in Ucraina. L'Unione europea fornirà fino a 90 milioni di euro in garanzie finanziarie. Si prevede che gli investimenti mobilitati nell'ambito dell'accordo da parte del settore privato raggiungeranno oltre 500 milioni di euro in tutti i settori, tra questi le infrastrutture essenziali e la produzione di beni e la promozione della decarbonizzazione. Nel 2022 l'International Financial Corporation aveva lanciato un programma da 2 miliardi di dollari per sostenere il settore privato ucraino. Da allora ha fornito finanziamenti per oltre 650 milioni di dollari e mobilitato oltre 400 milioni per sostenere il settore tecnologico, l'agroalimentare, le esportazioni e importazioni critiche e il finanziamento delle PMI. Il sostegno totale dell'Unione europea all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa ammonta oltre 88 miliardi di euro. Sono circa 3,7 milioni i giovani che svolgono un tirocinio nell'Unione europea ogni anno. È quanto emerge da uno studio della Corte dei Conti comunitaria. Questo strumento ha acquisito sempre maggiore importanza nella ricerca di un lavoro stabile, ma restano alcuni problemi. Tra questi l'attuazione non uniforme della raccomandazione del Consiglio europeo del 2014 sui tirocini di qualità negli Stati membri. Secondo le indagini dell'Unione, due terzi dei tirocinanti intervistati ha dichiarato di aver trovato lavoro nei sei mesi successivi al completamento di un tirocinio. Tuttavia la definizione stessa di questo strumento ha notevoli differenze tra gli Stati membri. Ben 16 paesi non hanno una definizione giuridica che stabilisca cosa effettivamente comporti un tirocinio. Questo, secondo la Corte dei Conti europea, rende difficile raccogliere dati comparabili e attendibili. Dalle indagini emerge anche che circa un terzo dei tirocini al momento non è remunerato, fatto che costituisce un problema per quei giovani meno abbienti che si trovano costretti a rifiutare.